Ciao amica, ciao amico, mi chiamo Marcello, faccio questi video perché sono un appassionato di moto e se anche tu lo sei, iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico tutti i giorni e quindi ti ringrazio. Oggi di parola di Kawasaki ZZR 1200 del 2002, prima di partire voglio salutare l'amico Warner che ha contribuito attivamente allo sviluppo del canale e ha restaurato il suo Malagutiano Embra X50 del 1989. La sua officina di riparazione auto si chiama WM Auto Service e si trova in via San Michele 15 a Briccherasio in provincia di Torino. Il telefono è 338 22 39 795, te lo dico perché c'è uno sconto del 10% se ti presenti a nome del canale. Quindi veniamo alla nostra Kawasaki, si tratta di una moto che appartiene alla stessa categoria della Honda CBR 1100XX Blackbird di cui ho fatto il video ieri, poi te lo metto in descrizione, anzi alla fine del video, il collegamento. Letteralmente un uccello nero che entra in produzione nel 1997 e rimane fino al 2006 la Honda. Quindi una moto, la Kawasaki dà prestazioni estreme che si pone in concorrenza anche con la Suzuki Ayabusa che prende il nome del falco pellegrino. La moto quindi rimane in produzione dal 2002 fino al 2005. Quindi vediamola a questo punto nell'immagine che la vuole rappresentare. Eccola qui, moto simile, altre due per caratteristiche estetiche, ma d'altronde era necessario questo tipo di moto affinare moltissimo l'aerodinamica. Infatti notiamo appunto come ad esempio la parte anteriore con il parafango sia molto aerodinamica compresa la parte del cupolino, insomma tutto per favorire la penetrazione nell'aria. Ma andiamo con ordine. Partiamo dal motore che è un 4 cilindri Liena 1164 cm3, raffreddato a liquido, doppio albero a camme in testa e 4 valvole per cilindro. La potenza massima è di 155 cavalli e 9.300 giri al minuto con una coppia massima di 116 Nm 8.000 giri al minuto. Da notare poi il telaio che è molto bello, ha una struttura a doppio trave in alluminio. La sospensione anteriore è formata poi dalla forcella regolabile nel precarico con escursione di 120 mm, mentre il posteriore è in presenza del sistema denominato Unitrack di Kawasaki con l'amortizzatore dotato della regolazione del precarico da remoto ed escursione della ruota, anche in questo caso di 120 mm. La sella è alta 800 mm da terra. Passiamo all'impianto frenante dove vediamo all'anteriore, eccolo qui, che si vede meglio, il doppio disco da 320 mm, mentre al posteriore sono in presenza del singolo a 250 mm. Le ruote sono molto belle, ha tre razze, in lega leggera da 17 pollici, il serbatoio è da 23 litri, il peso secco un po' abbondante di 255 kg con un prezzo che all'epoca era di 12.199 euro. Se ti è piaciuto metti like, se non ti è piaciuto metti dislike, ma iscriviti al canale e attiva la campanella perché pubblico un video al giorno, quindi sarai sempre aggiornato sui contenuti. Qui sotto i tuoi commenti poi sono sempre molto graditi. Ciao, grazie mille e buona serata.